Una di queste realtà dove il piano di riordino ha preso degli impegni di cambiamento radicale è proprio l'ospedale Fallacara di Trigiano, un ospedale prestigioso che ha svolto negli anni un ruolo molto importante nell'area metropolitana di Bari, non solo per la città di Trigiano, e che oggi viene ridestinato ad una funzione importantissima che è quella del centro Risvegli, nella sostanza quei luoghi dove si possono seguire i pazienti cronici che sono in una situazione di coma e che non hanno altri luoghi dove essere seguiti. È una funzione molto importante che creerà non solo un servizio per i pazienti e per le famiglie di tutta l'area metropolitana, ma è anche un servizio importante per la città perché è evidente che tutte le famiglie che graviteranno attorno a questo ospedale in qualche maniera impegneranno i servizi e le opportunità che la città di Trigiano potrà dare. Quindi mi auguro, questo diciamo così davanti alla statua di suo Francesca, a cui è dedicato questo ospedale, che si possa in qualche maniera superare questa sensazione di abbandono che in passato si era verificata in questo ospedale.